Cari ragazzi, eccoci arrivati alla domenica di Pasqua, il 12 aprile del 2020. Ho titolato questa domenica come il primo giorno della settimana e adesso siamo anche in grado di capire perché. Anzitutto vi faccio notare l'immagine che ho utilizzato, mi è giunta da un amico speciale che io ho a Gerusalemme, questo è all'interno del santo sepolcro, fotografato in un momento particolare del giorno dove tutta la luce del sole viene irradiata dentro l'edicola che racchiude appunto la tomba della risurrezione. Bene, lasciamoci condurre quindi alla comprensione della domenica di Pasqua. Intanto giunge a completamento del triduo pasquale, sono stati giorni molto intensi, abbiamo iniziato con la sera del giovedì, poi c'è stato tutto il venerdì con l'adorazione alla croce, il grande silenzio del sabato e la veglia pasquale. Sicuramente la crocifissione alla morte di Gesù hanno messo le condizioni per vivere appieno questa domenica così particolare che passa appunto dal silenzio, dalla tristezza, dalla morte alla vita, alla luce, alla vita piena. Gesù ha dato tutto se stesso ai suoi discepoli, a noi quindi, ha reso lo spirito al Padre perché tutto era compiuto, tutto nella vita aveva portato a termine. Ed ora? Con la veglia pasquale si è aperto un giorno nuovo, una bellissima liturgia che fa ripercorrere tutta la storia della salvezza e che vede come in Cristo, nella sua resurrezione, il completamento di un cammino molto antico che ha avuto origine, pensate un po', proprio nella creazione. Allora attraverso la grande liturgia della veglia pasquale noi siamo introdotti a questa domenica speciale, ma cominciamo con l'ordine. La preghiera di Colletta per questa domenica dice così. O Padre che in questo giorno, per mezzo del tuo unico figlio hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, concedi a noi che celebriamo la Pasqua di risurrezione di essere rinnovati nel tuo spirito per rinascere nella luce del Signore risorto. Vedete, le parole che vengono utilizzate in questa preghiera che introduce le letture della domenica di Pasqua sono parole significative e molto, molto importanti. È stata vinta la morte. È stato aperto il passaggio alla vita eterna. A chi? A tutti noi. È per questo che può essere innalzata questa preghiera speciale. Concedi a noi di essere rinnovati nel tuo spirito. Lo Spirito Santo ci riempia in questa domenica di Pasqua un po' particolare, a dire la verità, ma di poter rinascere nella luce del Signore risorto. Ecco il perché di quella foto che ho scelto per iniziare questa nostra catechesi. La luce del Signore risorto. Le tenebre sono state squarciate. Ora è il tempo della luce piena. La sequenza pasquale è una preghiera particolarissima che introduce la lettura del Vangelo. È una preghiera anche molto antica che è stata composta in una lingua sicuramente diversa dall'italiano con la quale la possiamo leggere oggi. Cioè la si recitava già in latino. Ma ho voluto qui riproporvela proprio per significare l'importanza di quello che stiamo celebrando. Anche se in questa maniera lo facciamo semplicemente attraverso una catechesi. Oggi si innalza il sacrificio di lode. Oggi tutta la Chiesa ringrazia. Perché? Perché l'agnello ha riconciliato noi peccatori col Padre. La Pasqua suggella questa cosa importantissima. Noi, uomini, peccatori, oggi, attraverso la risurrezione di Cristo che ha offerto tutto se stesso, siamo riconciliati col Padre. E la morte e la vita che si sono affrontate in un prodigioso duello? Eh, che cosa hanno visto? Hanno visto vincere il Cristo vivente, il Cristo risorto. Come finisce questa sequenza? Sì, ne siamo certi. Cristo è davvero risorto. Tu, Re Vittorioso, abbi pietà di noi. E allora il mio regalo per voi in questa Domenica di Pasqua è un'immagine molto particolare. Questo è l'interno dell'edicoda della risurrezione e quello che avete davanti agli occhi, sotto quella lastra di marmo che vedete, sono i resti della pietra della risurrezione. Siamo stati introdotti attraverso la risurrezione nel luogo più intimo della fede cristiana. L'unica vera testimone della risurrezione è questa pietra che sarà l'oggetto appunto del Vangelo della Domenica di oggi. Siamo pronti quindi a leggerlo sicuramente con cura. Quindi il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si ricò al sepolcro di mattino quando era ancora buio e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. È il primo giorno della settimana, è una nuova creazione, c'è una nuova settimana che viene inaugurata con questo giorno. La cosa molto importante è che dopo il grande silenzio del sabato dove tutto sembrava fermo, immobile, il Vangelo è animato da questa corsa, una corsa che è dettata da un amore grande, l'amore per il Maestro. E allora c'è la corsa della Maddalena, corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo quello che Gesù amava, noi sappiamo essere Giovanni, e disse loro hanno portato via il Signore dal sepolcro, non sappiamo dove l'hanno posto. C'è una pietra rotolata, c'è una tomba vuota. La prima ipotesi del corpo portato via è nata proprio dentro ai suoi discepoli, i primi, qualcuno ha portato via il corpo. E allora c'è un'altra corsa, si vanno al sepolcro, anche Pietro e Giovanni, concitati, ma cosa vedono? Pietro entra, entra dentro, si china, vede i teli posati là, ma non entra. Che cosa significa che vede i teli posati là? Dalla porta della tomba lui vede queste bende, questi teli che avvolgevano il corpo di Gesù, che sono posati là dove dovevano contenere il corpo del Signore, ma il corpo non c'è, ci sono i teli, ma non il corpo. Che cosa vedono? O meglio, cosa non vedono? Guardate, allora arriva anche Simon Pietro, il discepolo, quello che sarà responsabile poi di condurre la chiesa che nascerà da questo giorno. Entra, osserva i teli che sono là, fermi, sgonfi, e il sudario che era stato posto sul capo, non posato là coi teli, ma in un luogo a parte, certamente. Se voi provate a stendere una persona, il volto sta da una parte. Quindi vedete, noi entriamo dentro il santo sepolcro e che cosa vediamo? Vediamo i teli e vediamo il sudario, quello posto sul volto, da una parte, giustamente. da una parte c'è il volto, dall'altra c'è il corpo. Allora entrano entrambi, tutti e due, Pietro e Giovanni entrano dentro, ma il secondo discepolo, che era giunto per primo, cioè Giovanni, vede e crede. Che cosa crede? Crede che non c'è il corpo del Signore, ma ammette, non avevano ancora, compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. L'esperienza, ragazzi, che viene fatta è molto più grande di quello che è, quello che le loro menti comprendono. Una cosa è vedere, una cosa è credere. Per arrivare a credere alla Ressurrezione, vi invito a continuare questo testo che si trova al capitolo ventesimo del Vangelo di Giovanni e a leggerlo per intero. Così capirete l'importanza della scoperta della tomba vuota. La tomba è vuota. Questo è l'interno della tomba del Signore. La tomba è vuota. Cosa possiamo imparare? Certamente che la mattina di Pasqua vince il silenzio e l'immobilità della morte. Dopo l'esperienza fatta, il sabato santo, dove tutti sono rimasti fermi, la mattina di Pasqua quello che noi vediamo è subito questo movimento che c'è, questo movimento di Maria Maddalena che è dettato da un amore profondo per il suo maestro. È questo che la spinge ad andare sul far del mattino in un momento che poteva persino essere rischioso per lei. Lei è la prima testimone di questa forza della Ressurrezione. Trova davanti a sé la pietra rotolata. Fa l'esperienza di un qualche cosa che non si aspettava. E poi due discepoli, Pietro e Giovanni. Entrambi rappresentano due caratteristiche importanti per avvicinarci alla Ressurrezione. In Pietro noi possiamo scorgere l'importanza della fede, la stabilità, quello che lui era il dei dodici, quello che Gesù aveva incaricato di confermare nella fede ai fratelli. Mentre Giovanni è il discepolo sempre amato, quindi fede e amore sempre insieme per poter contemplare il mistero di Gesù. E quindi impariamo che la forza della fede che ci muove verso gli altri è così potente perché è lo stesso amore che abbiamo per Cristo che opera in noi. Cioè il suo amore in noi ci rende capaci anche di muoverci verso gli altri. Come vedete questo è un Vangelo di grande movimento, dal quale possiamo veramente trarre tanta forza. Ve lo racchiudo in un'immagine. Questa è un'immagine fatta all'ingresso dell'edicola della Ressurrezione, cercando di riprodurre più o meno quello che Pietro e Giovanni si trovano davanti e prima di loro ancora Maddalena. Una pietra sulla quale era stato deposto, il corpo morto del Maestro vuota. Sopra soltanto le bende, i teli e il sudario posti lì sopra ma senza il corpo del Maestro. Questa è la Ressurrezione. A tutti voi e alle vostre famiglie i miei più cari auguri per una Pasqua serena. Siamo tutti a casa un po' lontani ma ci sentiamo vicini. Siamo stati insieme per tutta questa Quaresima. Abbiamo meditato insieme per questo triduo e oggi per la Santa Pasqua. Ci vediamo per domenica prossima. Intanto buona Pasqua di Ressurrezione a tutti voi.